Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione di spazio professioni. Vediamo insieme le notizie di questa settimana. I costi legati all'installazione e all'utilizzo dei post saranno al centro della riunione del tavolo che il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha convocato per mercoledì 16 luglio alle ore 15 e al quale parteciperanno il ministero dell'economia, la banca d'Italia e il consorzio Bancomat. In quell'occasione sarà fatto il punto sull'entità dei costi e delle commissioni sulle transazioni che commercianti, artigiani e professionisti devono sostenere per l'utilizzo dei post, soprattutto dopo le modifiche in tema di pagamenti elettronici in vigore dallo scorso primo luglio. Al via la garanzia dello Stato per l'accessione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti della pubblica amministrazione. L'operazione è prevista dal Decreto Legge 66 2014 con l'obiettivo di assicurare il completo e immediato pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente, maturati al 31-12-2013, è possibile grazie al decreto attuativo del ministro dell'economia e delle finanze, già firmato da Piercarlo Padoan, registrato dalla Corte dei Conti e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto sulla pubblica amministrazione è al centro delle riflessioni di Confrofessioni. La Confederazione Italiana Libere Professioni in audizione alla Camera ha espresso il suo favore nei confronti del provvedimento che sembra andare nella giusta direzione. Sentiamo a questo proposito le dichiarazioni del Presidente Gaetano Stella. Allora, come Confrofessioni abbiamo pensato che fosse un nostro dovere quello di intervenire anche su una riforma, quella della pubblica amministrazione, che oggi all'Assemblea ABI a cui è partecipato e intervenuto il Ministro Padovan, che ha specificato che la riforma della pubblica amministrazione lo ritiene la riforma delle riforme. Come dire che è una riforma assolutamente indispensabile perché se gran parte del Paese è ancora afflitto diciamo così da questo grande sistema di burocrazia che riveste tutti gli ambiti dell'economia del Paese, un po' lo si deve anche alla circostanza che bisogna partire da una riforma della pubblica amministrazione. Allora noi come professionisti ritengo che come Confrofessioni, come rappresentanza del mondo professionale possiamo dare il nostro contributo affinché vengano introdotte delle misure per poter sburocratizzare e quindi migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. In questo senso abbiamo depositato un'audizione e abbiamo chiesto che la pubblica amministrazione possa fare cinque tipi di interventi, che sia innanzitutto più snella, più trasparente, più responsabile, più aperta e più semplice. Quindi noi professionisti abbiamo fatto una serie di proposte appunto su questi vari temi. Contrastare i nodi burocratici che ogni giorno i professionisti devono affrontare nel rapporto con la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini. Questo l'obiettivo della campagna Rottamiamo le norme inutili presentata al Ministro Madia da Confrofessioni. Ce ne parla Gaetano Stella nella prossima intervista. Per quale motivo non facciamo una campagna dove sensibilizziamo i professionisti di tutte le categorie professionali, visto che appunto in Confrofessioni sono presenti i professionisti che appartengono a tutte le aree, quindi praticamente diritto e giustizia, lavoro e economia, sanità e salute e ambiente e territorio. Abbiamo pensato per quale motivo non facciamo noi delle proposte al Governo. Poi è chiaro che il Governo starà a lui a prendere in considerazione quelle che sono più significative. Stiamo raccogliendo, abbiamo lanciato un messaggio tramite il nostro sito www.confrofessioni.eu dove ognuno si può registrare e segnalare delle norme inutili che lui nel corso della sua attività professionale sta riscontrando. Dopo noi stiamo raccogliendole, faremo un volume e lo inoltreremo al Ministro Madia che si è già dichiarata disponibile e anzi ben contenta che i professionisti stiano facendo questa campagna di rotamazione e poi speriamo che qualche norma effettivamente possa essere eliminata. Altro tema sul quale abbiamo interpellato il Presidente di Coff Professioni è il Piano per Garanzia Giovani. Sentiamo qual è lo stato di avanzamento lavori di questo progetto e quali sono le istanze dei professionisti su questo fronte. Allora, su questo fronte diciamo che siamo un punto morto, se vogliamo, perché noi abbiamo preparato un documento, sono mai oltre due mesi che il documento è pronto, abbiamo raccolto l'indicazione del Ministero del Lavoro di predisporre questo documento unitamente all'ADEP, l'Associazione delle Cassi di Previdenza, in quanto anche loro sono interessati a norme che riguardano l'autoimprenditorialità o l'autoimpiego quindi per i giovani professionisti che intendono avviare o iniziare un'attività professionale e quindi contiene sicuramente norme che riguardano i giovani per essere assunti negli studi professionali, i giovani professionisti, le nuove professioni e tutte queste nuove modalità di inserimento nel mercato del lavoro. E non siamo ancora riusciti a sottoscrivere questo documento per una serie di solite pastorie burocratiche che impediscono che probabilmente ritardano e quindi noi come ambito professionale si diciamo chiaramente che si sta perdendo un'occasione perché visto che ci sono i fondi europei che i fondi europei poi vengono inoltrati alle regioni e poi possono essere inoltrati a coloro i quali appunto assumono giovani all'interno degli studi professionali, in questo caso noi non possiamo sottoscrivere le convenzioni con le regioni in quanto non abbiamo ancora sottoscritto l'accordo a livello nazionale. Entrata in fase operativa la struttura di emissione di Palazzo Chigi contro il discesso idrogeologico per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, coordinata da Erasmo D'Angelis e con direttore Mauro Grassi, presentata il 9 luglio dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio. Il numero complessivo degli interventi previsti è di 3.395 opere anti-emergenza. Per la prima volta l'Italia fa un salto di qualità e investe sulla protezione del territorio e sulla prevenzione anziché concentrarsi sull'intervento in fase di emergenza, ha sottolineato Erasmo D'Angelis. Una situazione drammatica quella descritta dalla presidente di Narcassa, Paola Moratorio, in occasione dell'approvazione da parte del Comitato Nazionale dei Delegati del bilancio consuntivo 2013 della Cassa di Previdenza degli Ingegneri Architetti. Circa 40.000 ingegneri architetti, ha sottolineato, versano in condizioni economiche al di sotto della soglia di povertà. E anche, ma non solo, compito di Narcassa contribuire a creare le condizioni perché questi colleghi recuperino accettabili livelli di dignità nel lavoro. Bene, questa era l'ultima notizia di questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie.